Sicuramente tante cose nuove su cui lavorare, quello che mi ha colpito è stata la chiarezza, la semplicità e la praticità. Anche affrontando delle tematiche che magari sono diventate un po' dei luoghi comuni in una maniera diversa, sicuramente mi ha dato degli spunti in più. Quello che mi ha colpito, che è stata più che altro una conferma, è il concetto di poter creare la realtà non tanto attraverso quello che si pensa semplicemente o si desidera, ma essendo quello che si vuole realmente realizzare, sintonizzandosi su quella frequenza, assolutamente.